Chiamerei Claudia Zuncheddu, consigliera regionale indipendentista di Sardegna Libera. Grazie. Buongiorno a tutti e un grande ringraziamento a Progress per avermi dato l'opportunità di intervenire in questo congresso. In un momento, fra l'altro, particolarmente delicato per la nostra storia. La crisi che noi stiamo attraversando attualmente chiede al mondo dell'indipendentismo una grossa assunzione di responsabilità. Siamo noi che oggi dobbiamo dare delle risposte perché solo da questa crisi si può uscire solo programmando un progetto serio che ci porti verso una reale possibilità di autodeterminazione. Il problema dell'indipendenza che oggi si regge, cioè già il termine di indipendenza e il processo che è andato avanti sino ad oggi, è un processo che dimostra che l'indipendentismo incomincia a reggersi con le sue gambe. È un'idea che sta andando avanti, c'è un indipendentismo diffuso importantissimo nella nostra realtà sarda che va molto oltre l'indipendentismo organizzato. Quindi a noi cercare di cogliere questi umori del popolo sardo. Il fatto che non sia più possibile mediare l'indipendentismo attraverso forme di sovranismo che non esiste, questo è un neologismo neanche nei vocabolari. Io mi preoccupo quando sento parlare ad esempio di sovranismo perché molto spesso viene usato esattamente per distruggere un concetto che ormai è ben definito, è stato sdoganato. Per cui chi è indipendentista deve dire, dichiarare di essere indipendentista. Non possiamo più stare a cavallo delle situazioni. Una responsabilità nostra grande degli indipendentisti sardi è quello che in una situazione come questa deve necessariamente superare le barriere interne perché noi perdiamo molte energie a cercare di gestire senza riuscirci i conflitti interni, mentre la storia ci sta sorpassando. Quindi noi come indipendentisti non possiamo permettere che la storia ci sorpassi cogliendoci impreparati, cogliendoci molto spaccati al nostro interno, perché noi sul progetto abbiamo le idee chiare, noi sappiamo che cosa vogliamo, per cui si presuppone che il percorso sia unico, però dominano altre dinamiche che ci fanno retrocedere e quindi noi dobbiamo analizzare bene questi aspetti. L'Italia ci ha rovinato anche per quanto riguarda un po' questi conflitti interni perché sono riusciti a imporci, lo dico in questa sede perché siamo in famiglia, sono riusciti a imporre nel nostro interno proprio dei conflitti, dei complessi che ci impediscono di crescere, quindi giocano a disgregarci per aumentare la nostra dipendenza e quindi questo va assolutamente metabolizzato e rigorosamente superato. Quando si dice Centugoncas e Centoberritas ci hanno abituato all'idea di un concetto assolutamente dispregiativo, quando invece Centugoncas e Centoberritas è la base della democrazia partecipata è chiaro che noi dobbiamo trovare il momento di sintesi. Oppure ancora il Presidente ha fatto una bellissima relazione che condivido molto e che meriterebbe di essere approfondita punto per punto ma capiterà l'occasione, questo è un impegno che dobbiamo prenderci, è come quando si dice pocos locos e malunidos, ce l'hanno imposto e noi l'abbiamo praticato, sono riusciti a imporci sentimenti atroci come il sentimento della vergogna per la nostra appartenenza che ci ha frenato, ma non solo, ci hanno imposto fenomeni di cannibalismo interno al mondo indipendentista che stiamo praticando. Questo sta succedendo, lo sbranarci, farci sbranare fra di noi per retrocedere. Quindi dico che noi dobbiamo superare queste nostre debolezze perché il sentimento e il progetto indipendentista che va oltre un aspetto e un significato romantico di questa idea, noi ce l'abbiamo, io credo che sia chiarissimo a tutto, a tutti, per cui non ci resta che praticarlo, ma dobbiamo praticarlo insieme, noi dobbiamo creare ponti. Io sono qui oggi, modestamente, per dare un saluto, ma per lanciare per l'ennesima volta la proposta della costruzione di ponti fra di noi. Ci serve questo. Per cui questa forma di disgregazione che c'è stata e che ci sta facendo molto del male ci ha impedito, ad esempio, di arrivare sotto la scadenza delle elezioni e delle politiche italiane esattamente nella stessa situazione della volta precedente, uguale, precisa, identica, non sappiamo con esattezza cosa fare, non è passato un discorso comune, una presa di posizione fra di noi, globale, condivisa, partecipata. Per cui queste cose noi dovremmo chiarircele, non dobbiamo continuare ad arrivare a queste scadenze così importanti per il Parlamento italiano, italiano innanzitutto, perché è lì che decidono la nostra sorte e bisogna andare a vedere, a vigilare, vedere che cosa stanno decidendo di fare per noi. Noi siamo in una situazione drammatica, la politica regionale è chiara, è inutile che io qui mi metta a relazionare quello che sta avvenendo, ci stanno saccheggiando, ci stanno portando via anche l'anima se potessero. Anche il discorso della svendita dei nostri territori, adesso al Qatar, che non è un illustre privato che viene a comprarsi la villa al mare perché ama la Sardegna, ma è uno stato piccolo, questo stato sovrano islamico, è piccolo credo quanto la Corsica, non ha un milione e mezzo di abitanti, ha bisogno di espandersi, però grazie alla nostra classe, ha una grossa parte della classe politica che lo appoggia, cosa fa? Permette, si consente che uno stato acquisisca fasce di territorio della nazione sarda, non attraverso la guerra, non serve più, ma attraverso questa atroce, sudditanza e chiaramente complicità. Scusate perché i discorsi si fanno molto lunghi, faccio solo un appello a rincontrarci fra di noi, perché noi dobbiamo esistere con tutte le nostre diversità, quello che ci deve dividere, semmai divisioni ci devono essere, non deve essere nella sostanza politica, per cui a quel punto la nostra diversità diventa ricchezza e ci aiuterà a portare avanti il nostro progetto verso l'indipendenza. Grazie. Buon lavoro.